salve amiche e amici di youtube grazie per seguirmi in spreche già siete quasi 100 e avete ascoltato quasi 200 volte le mie trasmissioni broadcast vi ringrazio molto di questo e adesso torniamo tornando a noi a ciò che ci interessa siete qui a guardare questo tutorial di gastronomia casareccia e io per l'occasione vi ho preparato questa gelatina che non mi ricordo che gusto ci abbia non so se dimora perché violacea e di un colore allora facendo dopo pranzo con questo dolcetto di gelatina c'ho la telerota per cui sto con la radio già l'ho riparato tre volte cassino una cosa se sente proprio che fa splat questo è stato molto il numero però si sente fresquito afuera hai che abrigarsi bene io sempre dico lo stesso abriguense, non se enfermen e mirenme, aca me tienen con una gripe tremenda vamos cayendo de a uno Mercedes pobrecita mauro pobre sostenido de un hilo io tambien però bueno, firmes per accompagnarci qui la prima tarda in Mitra e dando la bienvenida vamos a escuchar una musica vamos a estar con los principales títulos de hoy la presencia en estudios de Gaston Herrera representante de la ONG Familiares y Víctimas del Delito y Tránsito hablando lógicamente de lo que nos atañe esta semana, que es la consulta popular del próximo domingo sobre si los marplatenses y batanenses queremos o no queremos una policía municipal la formación de una policía municipal a través del aumento de las tasas el 9 de junio tenemos una decisión muy importante lo que es para destacar del gobierno oficial es que se nos está preguntando una cosa la segunda vez que Martel Plata pasa por un plebiscito la primera ocasión fue durante el gobierno de Elio Abrile me sembra que More es la segunda vez que tenemos lo que digo no More digo no para algo que a lo mejor podría haber sido exclusivo podría haber sido realizado mediante un decreto etcétera se nos consulta y es más que importante más allá de si vas a votar por sí o de si vas a votar por no lo que nosotros desde acá siempre decimos es que vayas a votar que vayas a la urna y que puedas emitir tu opinión así cuanto más votos hay más por sentarte real hay de lo que piensa la comunidad tanto por sí o por no la línea de abierta de oyentes no me son filmato pero es stato un riso con rignoncini e formaggio e vabó si van a ir a votar Allora vi saluto a tutti grazie per seguirmi tanto nel mio canale di Youtube Santenchan per seguire il mio Facebook Santenchan per seguire il mio Twitter Santenchan e sapete che grazie anche per seguirmi in Google Plus Santenchan e per seguirmi in Sprecher la radio online in internet naturalmente come Santenchan grazie per seguirmi e per appoggiarmi dentro un ratito io per questo che continuo beh questo è stato un altro suggerimento di gastronomia Cassareccia con poco con una di queste bustine che puoi fare un dolce in casa per votare già che buono a alcune scuole salut che è tutto che come Mariano Moreno per esempio che tiene muchas mesas hai che reacomodare a toda esa gente per che puoi andare a votare tambien vamos a estar hablando di che passa con los carteros e la insegurità che sono un ratito che di